Musica E' stato il Teatro Petrarca di Arezzo ad ospitare il concerto dell'Orchestra Giovanile Italiana in favore del Calcit, prima iniziativa per il Comitato Aretino per festeggiare i suoi 40 anni. Un impegno ininterrotto di tutti i cittadini di Arezzo che insieme alle istituzioni hanno fatto sì che i servizi ad Arezzo ovviamente siano migliorati e i cittadini di Arezzo possano curarsi bene a casa loro. Ci siamo subito buttati perché naturalmente per noi da sempre la tradizione è che la musica è solidarietà e quindi andare a sottolineare questa importante ricorrenza per il Calcit è stato quasi un gesto naturale ed anzi mi sento di dire che ci riempie di onore. Questa è una serata doppiamente importante perché da una parte sacramenta il Teatro Petrarca come teatro della grande musica con l'Orchestra Giovanile Italiana e dall'altra parte dimostra come ormai la scuola di musica di Fiesole sia entrata nel cuore pulsante della città di Arezzo perché questo è un concerto che oltre alla grande musica tiene insieme la grande solidarietà perché è fatto in onore nel pensiero del Calcit che è la espressione forse più riuscita di quella generosità intelligente e importante che gli aretini hanno da molti anni messo in campo e che ci gratifica e che ci qualifica con grande onore.